Davvero sorprendente, non crede? È falso. Pronto? Chi parla? Claribson. Non ho ancora deciso, però vorrei far fare una, come dite voi... Valutazione. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi Lotto 231. E Miss Claire, che altro può dirmi sul suo conto? Ha una stranissima malattia. Parlare le parla, ma attraverso una porta chiusa. Una porta chiusa? Vuol dire che non l'ha mai vista in faccia? Non solo lui, nessuno la vede. Lei è qui, Miss Iberson? I sentimenti umani sono come le opere d'arte, si possono simulare. Perché evita sistematicamente di incontrarmi? Io invece volevo dirle di non occuparsi più del mio patrimonio. Mi mandi il conto delle spese. Buonanotte. Mi dica, che è successo? E com'è vivere con una donna? Esattamente come partecipare a un'asta. Non sai mai se la tua offerta sarà la migliore. Quando pensi che con una donna è fatta, hai già perso il senso della strategia. Ho bisogno di vederla. Andate via! Claire! Chi è veramente? In ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico.